Radio Radicale, la Presidente della Commissione Finanze della Camera, Carla Ruocco, ha rilasciato delle dichiarazioni in sala stampa a Montecitorio per fare il punto sugli emendamenti che sono stati presentati al decreto fiscale. Ecco le sue valutazioni sia sui termini di scadenza degli emendamenti, sull'ammissibilità e sul lavoro che è in corso sia sul decreto fiscale che sulla manovra che, come sapete, è all'esame del Senato.